La loggia veneziana, eretta nel 1626-28 sullo stile della Basilica Palladiana di Vicenza, era il centro della vita pubblica in età veneziana, venne ricostruita dopo la Seconda Guerra Mondiale. Sul lato settentrionale si nota un rivievo molto deteriorato, forse rappresentazione dell'isola di Creta. E ciò che resta della Fontana Sert del Segredo, alle scale della loggia e la secente straneria veneziana, oggi seguito il municipio. Grazie per la visione! 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 Grazie per la visione!